Ben ritrovati in studio, nostro ospite oggi è Nuccio Ordini, docente dell'Università della Calabria. Salve, grazie per essere qui. Da pochissimo, il 3 dicembre scorso, ha ricevuto l'ennesima importantissima onorificenza per mano del Presidente della Repubblica Francese. Grande emozione all'interno della Scuola Normale Superiore di Parigi, che è un po' il Tempio della Cultura, e lì le è stato dato questo importante riconoscimento quale emozione e soprattutto come inquadra questa volontà in Francia appunto di riconoscerle un'onorificenza simile. Ma guardi, certamente è stata una cerimonia emozionante. Sono venuti alla Scuola Normale Superiore un po' i direttori dei grandi istituti con i quali io collaboro in Europa. Era presente il direttore del Warburg Institute di Londra, il direttore del Max Planck di Berlino, il direttore del Centro de Recherche sulla Renaissance di Tours. Erano presenti anche alcuni importanti esponenti della cultura francese e la Presidente della Casa Editrice Le Belle Lettre con la quale collaboro. Bene, detto questo, devo riconoscere che la Francia è un paese generoso ed è un paese dove i meriti vengono veramente valutati. E diciamo, io ho avuto la fortuna, e l'ho detto nel mio discorso poi di ringraziamento, di vivere all'estero un'esperienza importante. E se io oggi sono quello che sono, lo debbo soprattutto alle grandi istituzioni con le quali ho collaborato, le grandi biblioteche che mi hanno ospitato e una serie di maestri che ho avuto la fortuna di conoscere all'estero. Non è un caso che io abbia dedicato la cerimonia del conferimento della Légion d'honneur a Alain Segon, che per me, oltre ad essere stato un grande maestro, è stato un fratello e un amico, purtroppo scomparso il 2 maggio del 2011. Ebbene, io ho avuto la fortuna di conoscerlo giovanissimo a Parigi, lui dirigeva quasi tutte le collane di erudizione di Bellet, una persona che era in grado di parlare latino e greco e conosceva tantissime lingue. Con lui ho imparato tanto, ma ho imparato tanto da grandi maestri che ho avuto la fortuna di frequentare e quindi se oggi sono quello che sono, lo debbo soprattutto a queste istituzioni e a questi maestri che ho avuto la fortuna di incontrare nella mia vita. Attraverso il suo lavoro di studioso, lei si è focalizzato particolarmente sulla figura di Bruno, sul rinascimento, ha individuato e, se vogliamo, anche rafforzato i legami tra la Francia e l'Italia. Ma guardi, il direttore della scuola normale ha detto una cosa molto bella nella sua introduzione. In combinazione, quel giorno c'era un vertice frango italiano il 3 dicembre a Lione ed erano i ministri italiani e i ministri francesi che si incontravano per il famoso tunnel dell'alta velocità che dovrà legare Lione a Torino. Ebbene, il direttore della scuola normale ha detto oggi c'è un altro vertice frango italiano qui alla scuola normale, ma un vertice dove si parla di ponti, di ponti intellettuali che probabilmente non hanno meno valore, forse hanno più valore dei ponti materiali perché la circolazione degli uomini, delle idee, dei libri è una cosa fondamentale nella storia del Paese. E io devo dire che pubblicare i classici in Francia, pubblicare i classici in Italia, seguire le traduzioni di Bruno in vari paesi europei, ma anche in Brasile, in Russia, in Cina, in Giappone, mi ha dato la gioia e la possibilità di fare delle esperienze straordinarie e di capire quello che Bruno stesso ci insegnava. Bruno diceva al vero filosofo ogni terreno è patria. Cioè significa che la patria non è il luogo dove noi siamo nati, la patria è il luogo dove noi possiamo continuare le nostre esperienze nella libertà e soprattutto crescendo. Per cui Bruno, che è il teorico dell'universo infinito, nello stesso tempo riconosceva le sue radici e si chiamava il Nolano quando firmava, però questo è un insegnamento per noi. Rinchiudersi nei perimetri ristretti delle proprie radici significherebbe non capire nulla e non fare l'esperienza importante che bisogna fare. Partire significa affrontare un viaggio che poi è utilissimo nella nostra formazione. Insomma, rammaricarsi del solito problema dei cervelli in fuga non ha senso di essere. Ma guardi, il problema dei cervelli in fuga è un problema che è mal posto. Io quando mi chiedono queste cose mi metto a ridere perché in genere sembra che le chiedano persone che sanno poco della ricerca. Che i cervelli vadano all'estero è una cosa fondamentale. Se io non avessi compiuto la mia esperienza all'estero non sarei quello che sono. Oggi ai miei studenti dico sempre voi dovete imparare le lingue dovete ascoltare non solo i vostri professori all'Università della Calabria ma i grandi specialisti che insegnano nelle grandi università europee o in America o in altri posti del continente dei vari continenti. Ora, quello che conta è l'esperienza che noi compiamo. Il problema non è della fuga del cervello che anzi va incoraggiata. Il problema è il ritorno del cervello. Cioè una volta che un giovane si è formato e che questa esperienza europea è decisiva nella sua formazione è chiaro che bisognerebbe creare le condizioni per concorsi, posti a bando eccetera per far rientrare le persone che noi abbiamo formato che hanno perfezionato la loro formazione all'estero e che poi rientrano in Italia apportando quella ricchezza che la nostra regione che è periferica ha bisogno. Lei dirige tra l'altro collane di classici italiani bilingue in Francia e europee in Italia e ci dice il suo lavoro che punto è. Guardi, io penso che oggi pubblicare classici in un momento in cui le collane di classici vengono chiuse non solo in Italia ma anche in grandi paesi europei è una maniera controcorrente per resistere a un andazzo che purtroppo è pericoloso. Oggi nella nostra società viene ritenuto utile solo ciò che produce profitto. Ed è chiaro che i classici non producono soldi. I classici producono un profitto dello spirito. Ebbene, io dico che questa inutilità dei classici è invece utilissima oggi perché noi viviamo in un momento in cui bisogna capire l'utilità dell'inutile ma bisogna anche capire l'inutilità dell'utile perché molto spesso ci fanno passare per utili cose che sono assolutamente inutili. Pensiamo al consumismo che ci spinge a comprare e a circondarci di oggetti che non servono a nulla. Pubblicare classici significa far capire ai giovani le comuni radici dell'Europa e soprattutto far capire ai giovani penso a un grande classico come Campanella l'amore per il bene comune. Oggi lo vediamo in politica il grande dramma del presente è che le persone non pensano mai di scendere o di salire in politica per il bene comune. Sono operazioni che si fanno molto spesso per i propri interessi personali. Ebbene, nei classici c'è l'amore per il bene comune e Campanella dice a combatter, a diveller l'ignoranza io vegno cioè che il primo male che oggi affligge la nostra società è l'ignoranza e nell'ignoranza che si celano i disagi del potere è l'ignoranza che rende schiave le persone. Una persona colta può reagire può ragionare con la sua testa e quindi può dare un contributo serio e valido alla società. Ecco perché dico sempre ai ragazzi leggete i classici perché i classici ci fanno ritrovare le comuni radici europee e nello stesso tempo i classici rendono più umana l'umanità. Ha visto Benigni professore una curiosità cimentarsi di recente sulla Costituzione ancora prima sulla Divina Commedia e può essere un modo insomma un nuovo tipo di comunicazione per avvicinare i giovani ai classici? Non c'è dubbio Benigni è un grandissimo professionista noi lo abbiamo ospitato nell'Università della Calabria gli abbiamo dato una laurea onoris causa io ho avuto l'onore di pronunciare la laudazio del candidato di Roberto Benigni e proprio in quella laudazio ricordavo che avvicinare i giovani alla lettura dei classici è una cosa straordinaria i classici all'inizio vanno letti e ascoltati Benigni è capace di fare questo purtroppo molti miei colleghi pensano che invece l'insegnamento dei classici sia qualcosa riservato solo agli studiosi e ai professori è un grandissimo è un grandissimo errore è un grandissimo errore Benigni è riuscito a far stare davanti al televisione davanti alla televisione milioni di telespettatori ad ascoltare Dante e noi dobbiamo partire da questo dato poi dopo lo studente che comincia a leggere Dante è chiaro che ha bisogno delle segesi ha bisogno di un aiuto ma questo viene dopo all'inizio bisogna tirare per la mano prendere per la mano dolcemente gli allievi e fargli leggere questi versi che sono straordinari e potenti Benigni è un grande professionista lo ha fatto con l'inno di Mameli lo ha fatto con Dante lo ha fatto con tantissimi altri testi e assolutamente io ritengo che questi grandi professionisti come Benigni vadano ringraziati e non insultati come spesso è accaduto sui giornali grazie grazie noi ringraziamo il professore Nuccio Ordine è accaduto Alla prossima.